Bene amici, sì ci siamo, finalmente novità flash, super tempestiva, quindi non scordatevi, mi raccomando, di mettere un bel mi piace, di apprezzamento. Io sono Mr. Lul e partiamo immediatamente. Primo, come vedete, anche in sovraimpressione, IMS ha iniziato a lavorare, ma soprattutto a esitare, o meglio dare gli esiti, delle domande, delle pratiche adi per la ricarica, ovviamente, dell'assegno di inclusione, quella di gennaio 2024, la prima ricarica in assoluto e anche la prima ricarica dell'anno. La data di accredito la sappiamo già, 26 gennaio venerdì, con ritiro anche, diciamo, contestuale della famigerata carta di inclusione. Man mano usciranno per tutti questi esiti, con il cambio degli stati e le date di disposizione imposte. Speriamo, ovviamente, che non ci siano brutte sorprese o ritardi tra IMS e poste che vanno sempre a braccetto, perché partire male sarebbe certamente non di buon auspicio. Nel primo commento, in tempo reale, ci aggiorniamo anche sulle comunicazioni, no, SMS, mail, inviti SISL, che vi dovranno arrivare per poi poterle mostrare allo sportello e per ritirare anche le vostre carte. Prelievo, vi ricordo, 100 euro da moltiplin contanti, da moltiplicare per la scala di equivalenza, spese vietate e consentite, ragazzi, basta un po' di buonsenso in attesa di elenchi ministeriali più completi, se comprate i detersivi al supermercato non vi dirà e non vi può dire nulla a nessuno, basta non giocare alla lotteria o comprarsi i sigari. Comunque ne abbiamo parlato qui nel dettaglio. Per ora poi non c'è nessun divieto di accumulo, non sono previsti tagli, in caso di non speso, in attesa sempre di eventuali nuovi decreti ministeriali. Ok, ovviamente anche al bonifico per pagare l'affitto, la locazione, nei prossimi giorni arriveranno, vi ricordo, anche lavorazione di assegno unico figli, competenza dicembre sulla vecchia ormai carta RDC. Ditemi la vostra nei commenti, io vi aggiorno man mano, anzi ci aggiorniamo man mano tra tutti come community qui sotto. Nel primo commento attivate la campanella per non perdervi nulla, mettete un bel mi piace per la tempestività di questo video. Flash, un abbraccio da Mr. Lull. Nel primo commento attivate la campanella per 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 la campan